Ciao! Allora, questo è il video aggiornamento dei prodotti bucati che ho bucato in questo periodo. Giù nell'info box vi lascio il link dei video prima che avevo già fatto qualche mese fa. Allora, se vedete che c'è la... Ora no, si vede meno. Prima si vedeva di più perché l'ho sfumato con le mani. Ma a me, non so perché, ma a me non mi riesce mai farmi mettere i blush per bene. E mi faccio sempre le guance di Aide. Quindi iniziamo, vi faccio vedere alcuni prodotti che ho bucato. Che sono un pochettino. Iniziamo da questa... Come si chiama? Cipera... Sì, cipera trasparente... No, trasparente rudetta, trasparente bianca di Primark. Eccola qua. Questa... Questa l'ho presa... Fra giugno e luglio. E questo è il buco che ho fatto. Questa è quella matte. Costata due euro e cinquanta. È bianca. Se siete proprio bianche bianche vi fa più bianche. Infatti anche a me mi fa... Mi fa bianchissima. Quindi... Non credo di ricomprarla. La finisco. E poi... Cerco altre cipre. Che meglio. Comunque... Vabbè... Questa è la prima... Prima cosa con il buco. Quella è la mia. E... Finalmente dopo due anni, tre anni che... Questa collezione è uscita da Essence. Questa è l'illuminante della collezione limitata. Che è uscita per Natale. Che non mi ho domando. Di Cinderella. Illuminante. Finalmente c'ha un buco. Iuppi ce l'ho fatta. Perché non voleva più finire. Credevo che non finiva più. Ce l'ho fatta fare il buco. E sono tra... Sono felicissima. Anche se mi garba questo illuminante. Perché... Se ne mettete... Abbastanza... Vi fa... Vi illumina. Guardate qua. Ora non so se si vede bene. Io li swatchi non li so fare. Comunque va bene. Io lo amo questo illuminante. Poi... Ora non mi ricordo questa palette... Qual è quella... Il... Come si dice... L'ombretto che vi ho già fatto vedere nel... Questa è la Sun Club di Essence. La prima Sun Club che è uscita. 02. Com'è che c'è scritto? Long Beach. E... Ora non mi ricordo se ho... Questo l'avevo già bucato questo. Ma comunque ne ho bucati due di... Di ombrettini di questa palette. Mi sono tutti i pegaci. Quindi... Cerco di... Di finirla. Voglio finirla tutta. Poi... Ho bucato... Due... Sì. Ho bucato due ombretti di... Questa palette della... I Love Makeup Yet Passion. Questa qui. Ora vi faccio vedere. E ho bucato... Il panna. E questo rosina qua. E vorrei bucare anche altri. Per ora... Ho bucato questi. Questo... Questo mi garba tantissimo. Infatti è sempre quello... Di questa palette uso... O que... Questo si la uso. O questo qui che ancora non ho bucato. O questo. Gli altri... Poco li uso. Comunque cercherò di usarli tutti. Ah, io mi sono fatta male. Poi... Arriviamo all'ultima palette. Che questa mi dispiace che ho... L'unico... Non è l'unico. Stavo dicendo... Una bischerata. Un ombretto che ho quasi finito. Che ho usato anche oggi per la... Per la piega. Che è il marrone. Quello chiaro. Quello terra. Che è questo. Che si è... Leggermente... Cioè è rimasto solo questo pizzico di... Di ombretto. Ora non lo voglio far cascare. Perché lo voglio terminare proprio. Ecco si è drotto anche. Comunque questo l'ho già finito. Ho finito... Ho bucato... Quest'altro i tre. Eh... Ora come faccio? Aspettate. Torno subito. Rieccomi. Stavo dicendo... Questo l'ho appoggiato lì sul letto. Un minutino. Ho bucato questi tre. Questo viola qua. Metallizzato. Che è bellissimo. Questo... Oro ocra. Metallizzato. Che è bellissimo anche questo. E questo maroncino... Giallino. Non so come definirvelo. Anche questo è bellissimo. Anche questo è metallizzato. E vorrei iniziare anche a bucare altre cose di questa. E nulla ragazzi. Questi sono tutti i miei prodotti con il buco. Io spero che vi abbia fatto questo video. Se ci sono altre cose che non ho fatto vedere qua vi farò un altro aggiornamento sempre. E nulla. Io vi mando un bacio. Mi raccomando. Lasciate qualche like a questo video se vi è galbato. E commentate soprattutto. Ciao. Ciao.